è cominciata che io vivevo in una famiglia numerosa eravamo 14 15 con un garzone che per le vesti e allora erano il dubbio non mi sarei presentato perché capivo che tanto la guerra stava volgendo verso la fine gli americani già erano alle porte dell'europa però c'era un dubbio tremendo che mi affliggeva perché a braccano aveva fatto delle stragi e poi i fascisti di amatelica ci conosceva tutti volendo volendo andare in mezzo alle famiglie come era scritto nel manifesto questo manifesto spiegava che chi se non si presentava spontaneamente dalla classe 1914 al 1927 c'era rappresaglia su delle famiglie e io a questo pensiero tremavo proprio per la famiglia c'erano i fratelli più piccoli mio nonno una zia e cugini ci ho pensato un po e poi mi sono presentato ci hanno sceso giù a esbruck a esbruck pure trattati ancora decentemente ci hanno dato da mangiare regolari siamo stati qualche giorno a esbruck e poi ci ha portato a monaco a monaco già tira ci ha condotto alla stazione ci ha portato lì in un campo dove c'era un campo di russi russi che ha due o tre anni che era prigionieri si vedeva poco più che lo naso tutti strappati con le facce tutte chiuse ci guardava così annoiati ci guardava questi signori tedeschi e francisti ci ha detto guarda anche voi altri o accettate le condizioni che vi fanno gli altri vi diamo una divisa oppure ecco la fine che potete fare questo da lì ci mette dentro sempre sti carri vestiame e via siamo attraversati tutta la Germania siamo arrivati vicino cala dove c'era il cantiere destinato per noi dove si faceva le nuove armi contro gli americani contro i russi che doveva portarci alla vittoria l'ultima arma la battaglia che sarà la vittoria la reclama si spregava la mattina partiamo ci faceva alza verso le tre tre e mezza ci faceva fa la polizia insomma lavasse la faccia l'occhi c'era un rubinetto due eravamo più di 100 100 8 110 quella squadra lì eravamo e poi si partiva a piedi si prendeva la stazione dell'idea del grosso e si andava fino a cala in questa pianura doveva sorgere c'è il posto per 15 20 mila persone perché lì sviluppava doveva fare la nuova armi se non c'aveva questo tesserino questa era la luce personale con la fotografia e non sbassai da nessuna parte se non c'aveva in mano questo lavoravo con la Strassenbau una strada una casa un'azienda che faceva roba dei strazzamenti strade eccetera quando abbiamo fatto questa pista di lancio c'è stato il collaudo e alla inaugurazione doveva venire Goring quando è venuto Goring è lì noi a guardare lì un po' lontano come gli schiavetti ti serve? Goring ha fatto un discorso che me l'ha spiegato un altro che ha ripetuto le stesse parole che ricondurremo con le nuove armi ricondurremo i russi al di là degli urali gli americani al di là dell'Atlantico e chi collaborerà con l'alleato tedesco sarà ricondotto con la dovuta rincompensa proprio in case con la dovuta rincompensa e ci crederanno gli altri tra gli altri stranieri ci guardiamo uno con l'altro piagnendo vedendo che quello era morto, quell'altro non c'era più, quell'altro è stato in infermeria non sapevamo nemmeno dove l'aveva portato e aveva morto, ci mettiamo in un lavatoio quando era morto mi arrangiavo, io mi arrangiavo sai perché? siccome potevo uscire dal campo che era campi in costruzione dove vedevo quelle mucche di patate lunghe magari 10 metri 15 metri così alte io mi mettevo lungo dietro uno di quelle mucche faccio finta dal gabinetto e trovavo sempre qualche carota qualche patata qualche rapa mettevo giù che cosa portavo qualcosa per me qualcuno per qualcuno che mi sta via vicino la pianza, la pancia la impio sempre e gli altri poveracci, meglio non parlarne, guarda quando mi ricordo loro dicevano caputto e cale quando è ridotto male, quando è ridotto male sei finito perché loro non gli servivano più su fila ormai 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 che c'erano troppe persone dalla Francia ritiravano le persone dal Belgio già ce l'avevano prima dall'ideale Orsona, dall'Ucraina, dai Polacchi su fila ormai fila ormai e cal era meglio io quando ho sentito queste parole pensavo che prima che fate morire a me mi sa che morire voi è una bella sera ci mette in colonna pensa cantieri eccetera comando non comando sette eravamo quanti quindici mila noi saremmo stati ottomila lì quando ci ho messo in colonna a strada piena quando ce ne entrava ce ne entrava intorno dietro c'era qualche cane e ci stava un po' di guardia dovevamo portare ci voleva portare verso la Sicoslovacchia perchè ha detto che se rimaniamo a Cala ma me l'ha detto l'interprete lì tutte quelle persone facevamo un disastro a Cala dice questo ria fino a Weimar se li liberano americani li lasciamo liberi questi ci devastano le case ci assassino i tedeschi allora a me l'interprete a me pure a qualche altro l'interprete un certo palumbo napoletano che parlava bene tedesco mi ha detto guarda che a me mi hanno suggerito questo che le persone un pochetto più sane più in vista o deve essere fucilate o avvelenate e allora vedete un po' voi altri se vi fidete e piate da mangiare in ultimi tempi su una curva dopo notte la sera ci siamo ficcati in sette dentro una pineta lì in mezzo è passata la colonna passati i cani hanno altri chiotti chiotti un po' lontano qualche centinaio due metri non ci ha beccato i cani siamo ormai in mezzo sta pineta dopo un paio di giorni cominciato ad arrivare l'americano che mitraiava tutto andare per tutto perché lui prima di avanzare con i carri armati prima passava con le mitragliatrici mitraiava alla fine gli altri siamo scappati fuori ci hanno istruito che bisognava mettersi una frascia bianca sul braccio oppure le mani in alto così perché sennò loro l'americano mica sapivano chi eri perché lì ti faceva fuori subito quando eravamo in sette ci vedevamo bene se c'era questo di pane ne facevamo sette fette Valdrini Pecchioni Palamara eccetera ha preso il sindaco lì sempre sui convini della Germania vicino a Sicorlovacchia gli ha detto gli ha detto gli americani questi ragazzi bisogna che li fate lavare pulire poi ci ha dato parecchia roba anche loro per vestire i scatolami ci ha migliorato già uno due per famiglia gli ha detto al sindaco ci doveva collocare e ci ha messo lì e si è guidata la guerra la guerra è finita subito a me mi è combinato con una famiglia che c'era marito moglie un polacco marito e moglie che questi polacchi gli aveva dati il re che era la Germania per la sostituzione dei due figli militari alla fine gli disse guarda che io è facile che faccio come sta facendo quell'arte andiamo in un centro di raccolta perché qui sennò ci vanno più tra quattro mesi i francesi vogliono rientrare i russi i polacchi tutti gli stranieri vogliono entrare le strade tutte rotte i mezzi più di quelli non ce n'è non ce n'è questo questo vecchio c'era 15 anni si è viste quasi a piangere dice mamma e moglie gli pare aver visto un figlio disperso e l'ho capito poi pure l'analina si chiamava la figlia pure l'analina innamorata io sono innamorato per tornare a casa mia dai genitori dai fratelli e questo non ci voleva credere che gli voglia mi ha detto quando sono di due mi ha detto se te trovi fa finta che è casa tua qui fa finta fa finta che è casa tua se te trovi bene auguri se no come succede se i moglietti non c'entrano e raccolta c'erano quelli che iaggiavano un mese un mese più che stavano lì e non trovavano la strada per poter tornare in Italia allora altri sette che mi ha detto che mi ha detto ho studiato un po' mi ho domandato un po' ci sta qualche stazione che va verso il Brennero qualche stazione qualche treno ci sta siamo montati tutti e sette sopra questi vagoni di carboni e siamo tornati a casa però la parte più dolorosa per me è quando sono arrivato a Madelica a Sforza a Albagina ho visto un amico della famiglia era tanto freddo gli pareva pareva che si vergognava di rivedermi come possibile allora gli ho detto che ne è della famiglia mi ha detto tuo zio l'ho visto ieri ma tuo padre un po' di giorni che non lo vedo più mi ha fatto capire subito che mio padre non c'era più mio padre che mi ha salutato a Sforzacosta a Sforzacosta a Sforzacosta un uomo che si è preso per mano e ha detto non avere più paura più paura di nessuno che non desiderà più mai niente sì 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 io lo ricordo come fosse oggi sì stavo sul lavoro ancora sotto dei tedeschi sotto dei tedeschi sotto dei tedeschi per modo da dire perché erano diventati come pecora anche loro peggio da noi poveri tedeschi ha subito anche loro quei carini brutti la gente per bene c'era anche là come dappertutto e l'ho ammirato sempre io la gente per bene sia dal ragazzo come l'hanno imparato la famiglia sia dopo sempre e se ho potuto nelle mie possibilità ha fatto qualcosa di nascosto quello quando sono tornato qui a Materica c'era una persona che si lamentava era piena di tutto non aveva visto niente la guerra a cui questo non c'è quell'altro c'è la tessera quell'altro quando tu vedi quelli come te che li hanno mucchiati lì nell'angolo dei lavatoi perché poi passa un garettone e li porta via una persona non può capirla tu sei insegnante sei una persona intelligentissima più brava da me ma non puoi capire quello che si passava quello che si era per noi la guerra bisognerebbe farla a tutti quelli che la vogliono metterci a loro in guerra fra loro basta quelli che la vogliono o che la vogliono non mi sembra che la vogliono ma non mi sembra è tutta la gloria Grazie a tutti.